buongiorno partiamo dico la cat e lei mi dice per dove lo sapessi non lo sapessi ma lo so no non lo so però vorrei partire quante di voi vorrebbero partire ragazze mi dato là per l'inizio di questo video ovviamente essendo lunedì è inutile a dirvi che non ho nemmeno montato uno stand degno di essere noto ma è bellissimo lo stesso vi facciamo vedere i nuovi arrivi cosa cosa ragazze il leggins questo è lo stesso tessuto dell'abito vedo che stai già guardando di là per i numeri ok no perché dico ci saranno già le nostre amiche mamma mia non credo però se qualora ci fosse già il leggins vita alta fatto dal nostro medio in brescia mai avuto in altre circostanze bianco e nero è il tessuto del nostro abito quello verde nero e bianco che poi vado a mostrarvi stupendo il leggins è stupendo bellissimo tutto stupendo il tessuto dalla 40 alla 54 cioè quando pensate di trovare un leggins nella taglia 54 ovviamente va binato con le cose un po lunghette ma le lunghe gilet quelli sapete che ne abbiamo in abbondanza mantelle di pelo e via dicendo quindi questa pochettina in paillette 39 euro la gradite sì io direi di sì è bellissima guardate la meraviglia dentro ha tutta la sua catena utilizzabile vedete quanto è bella quindi la possiamo mettere anche così a spalla che dite una meraviglia alla vostra gabbia allora mi sono acconciate i capelli solo perché non potevo lasciarli giù 39 euro la borsa con le paillette 79 euro questo pelo meraviglioso che ragazze sembra la pen invece è ecologico e che dire la spilla l'ho messa qui la possiamo togliere vi do un'idea la possiamo togliere e come fa sempre la nostra doni chiude il il gilet qualora lo portasse anche sopra una gonna soprattutto e vedete che lo potete anche sigillare così con la spillina queste spille sono meravigliose e possono fare qualsiasi servizio insomma qualsiasi non lo so però poi ci penserete voi ma ci sono le mie amiche sì non è mezzogiorno questo è un orario diverso magari chi ha già iniziato a lavorare mi vedrà indifferita dove sulla pagina gabrieesse abbigliamento donna e gabrieesse abbigliamentodonna.com il sito e tanti e dunque quando è che è stato l'altro giorno una ragazza mi guarda e mi dice ah sì ero in un negozio di calzature mi dice ma tu sei gabrieesse io ti vedo su youtube grazie gli ho detto sì ecco mi capita tante 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 volte ragazzi il nostro trench che che dire è confortevolissimo io vi dico che lo porto in queste giornate da esterno ma poi sarà il jolly che porterò con disinvoltura all'interno mentre lavorerò magari non col tacco ma con una con un biker con qualsiasi con uno stivaletto con qualsiasi cosa basso e questo trotterò e viaggerò tutto per il mio negozio con magari sotto una dolce vita di queste dei giro colli che poi vedremo a vedere allora cosa facciamo andiamo a vedere lo spend poi ragazzi oggi dinamico il video veloce e lo facciamo magari il negozio così vedete tutti i colori della maglieria e via dicendo allora partiamo con che cosa facendovi vedere vi rammento il tessuto dell'abito chi di voi l'ha già acquistato è questo quindi è bellissimo e ho chiesto ai ragazzi di fare i leggings perché in realtà un leggings bianco fino a una taglia 54 non lo abbiamo mai assolutamente mai avuto il taglio è quello dei nostri calzoni quindi state tranquille ovviamente lo abbiamo fatto bianco e nero perché nero non può mancare ma il tessuto è quello di questo abito l'abito 69 euro il leggins costruito vita alta con l'elastico ben fatto e tutto 59 euro chiamiamolo leggins ma ragazze è un pantaleggins ovviamente dimmi allora fate buon pomeriggio di tutte le nostre amiche che sono tante ciao gioia mie Nadia scrive niente notifica vi ho trovato per caso niente notifica allora gira il tuo numero scrivi alle ragazze e ti inseriscono nel chat comunicazione delle comunicazioni che noi abbiamo abitualmente adesso cominciamo a fare prima della diretta diversamente vai sul sito www.gabrieseabiliamentodonna.com e quando sei lì trovi tutti i tasti c'è anche il tasto comunicazione ci clicchi sopra e automaticamente ne entri a far parte giusto Katia esatto perché è importante notifiche non siamo noi che le mandiamo perché non siamo noi però possiamo fare questa comunicazione attraverso chat su whatsapp ok c'è qualcosa da chiedere a Katia per adesso no io sono stata un po in magazzino ho trovato partirei subito da lì ma prima andiamo avanti si dai ve lo faccio vedere perché così pazientato un secondino allora arriva anche nelle taglie più basse costerà meno questo è un fornitore sempre lo stesso ma a due linee cioè la linea morbida un po over questo ragazze secondo me arriva anche a taglia 52 tranquillamente visto così sembrerebbe di sì visto così cos'è questo è un maglione vi ricordate l'anno scorso che lo chiedevate sempre e vi dicevamo tra le altre cose vedi per le taglie un attimino più morbide quindi consideriamo che va dalla 48 46 48 fino alla taglia più alta hanno fatto il collo morbido e non il collo dolce vita questo così in essere viene 79 euro e cos'è di più magico se non mettere sotto magari i leggings in tonalità vedete bellissimo questo è un maglione abito che non si può portare ad abito perché ha questo spacco che come vedete parte da qui ok però sicuramente ci permette di mettere qualsiasi cosa sotto quindi i leggings perché no molto bella l'idea della gonna con le stelle che l'ho presa apposta e riassortita stamattina perché buttata qui sotto credetemi che è stupenda bellissima 89 euro la gonna e poi i vari colori sono tantissimi colori di questa maglia a 79 euro io adesso vi ho portato per dire l'azzurro che è delizioso vedete che qualsiasi colore voi ci mettete la gonna sotto è un anfibio ragazze è strepitoso l'anno scorso siete rimaste a bocca asciutta per questi abiti perché arrivavano fino a 44 46 era dura cate invece quest'anno partono se vuoi dalla 46 48 e arrivano in su ma arriva anche il modellino più asciutto quindi vestiremo anche la 42 la 44 la 46 vedete che è una meraviglia ok azzurro nero perché nero cosa vogliamo fare facciamo nero con la gonna nera siamo partite dalle morbidose oggi va bene facciamo l'abito così ecco quando vi dicevo come fare ad appesantire la gonna la pesantite in questa maniera questa ovviamente vi faccio vedere poi la differenza questa un tool elasticizzato il nostro tool made in brescia e lo conoscete questi abiti maglie 79 euro guardate la dimensione guardate la lunghezza anche per chi è fastidiosa tranquille perché il collo è morbido mentre invece l'altro sarà più a dolce vita 79 euro e potete fare anche così mettete il legge sotto nero vedete questo leggins è proprio quello che vedete indosso me è un leggins vero e proprio fatto la nostra band in brescia l'abbiamo ritoccato e modellato perché stesse aderente di gambe voi sapete che io lo riempio molto bene quindi se lo riempio io indosso una 42 ok ci vuole la misura giusta ok deve stare comunque leggins la meraviglia che arriva fino a taglia 54 e solitamente in questi articoli non si trova perché in questi articoli è quasi è assolutamente impossibile trovare un leggins di questa fattura quindi la nostra camicia 59 euro e il nostro leggins a 59 euro e il tutto viene come per magia dimmi a te Emanuela chiede avete leggins ecopelle blu o marroni? è arrivato il trench perfetto è bellissimo grazie non so che taglia tu avresti ma ecopelle blu o marroni io li ho visti solo saltuariamente fanno un'unica taglia ma avesse un 40 42 quindi non arrivano in in taglia e quindi costeranno anche meno costeranno sui 25 29 30 euro ma in questo momento non possiamo coprire tutte le taglie perché non c'è un fornitore che li fa ecco li avesse fatti il nostro made in brescia non credo che abbiano le copelle possiamo chiedere comunque ti ricordi Cata di chiedere il nostro made in brescia tra l'altro con me la mia chat credo che abbia le tue misure se non ricordo male ecco allora se stiamo su una 42 mi fai una richiesta ben precisa che quando vado dai fornitori provo a chiedere magari proprio dove ho acquistato queste maglie vediamo se magari c'è qualcosa leg is vero e proprio in ecopelle non l'ho ancora visto tanto meno blu e lo dubito e dubito proprio proprio fortemente che lo troverò nel blu marrone può essere può essere nel nell'andamento così è arrivato un fino che taglia veste ma non saprei cosa non sappiamo che cosa se ha il cuoricino l'abito fino a 52 54 se ha un cuoricino fino a 52 54 queste maglie ad esempio che non riuscivamo a vestire diciamo le taglie più alte con questo caso ci siamo riuscite quindi nessun problema se Doni arriva poi la sarta esci magari e vai di là che le cose per la sarta le abbiamo di là in magazzino perché siamo partiti adesso con il video e quindi vi saluta la nostra Doni quindi volendo potete mettere anche il pantalone a palazzo quindi il pantalone a palazzo abbiamo in cinque colori verde nero cammello lo riassortete giusto questa mattina questo è un altro colore di quello che sta molto bene col cammello però insomma potete fare tutti gli abbinamenti che volete quindi non è che potete mettere il leggings un pantalone a sigaretta sotto ovviamente e le gonne in tulle giusto per o anche il pantalone a palazzo giusto per fare qualcosa di diverso ma partite con le morbide oggi si va bene e andiamo avanti così infatti barbara chiede poi misure grandi della maglia con lo spacco quindi su whatsapp gioia che io controllo tutto misure grandi della maglia con lo spacco l'ho appena detto ci dai le tue misure e da lì su whatsapp ti diciamo cosa e come e quando e perché e poi angela vorrebbe vedere invece la tua maglia bianca che si intravede sotto adesso tolgo tutto perché io sono partita a scheggia visto che sapevo che era un orario un po così però ragazze non volevamo arrivare oltre abbiamo avuto tempo di preparare la stanza andiamo così avanti e qui ci aspetteranno ragazzi sono arrivati questi questi ponci che sono una meraviglia guardate il tessuto è stupendo sia dal dritto che da rovescio qui c'è dentro del blu c'è dentro del nero c'è dentro del bianco del del tortora del cammello sempre ecologico prezzo fantastico vi ricordate quelli della stagione precedente bene sto cercando il cartellino che c'è perché l'ho appena apprezzato io 59 euro e c'è in tre colori quindi adesso qui credo che ne abbiamo messi due c'è anche col nero che anche col pelo nero lo dobbiamo ancora togliere dal imbusto quindi guardate quanto è bello questo poncio sembra praticamente un cappotto eccolo qui scusate guardate qua vedete praticamente sono questi tre colori uno più bello dall'altro bello pesantino quanto basta giusto 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 ora togliamo le poelle togliamo il pelo questa che cos'è questa casacca è la nostra camicia meravigliosa 59 euro del nostro bed in brescia che vi ho proposto più di una volta e giusto per far vedere indosso io la porterei anche liberamente senza cintura perché a dire la verità è molto bella portata anche senza cintura perché vedete che cade è sciancrata cioè è bella al punto giusto questa camicia copre il punto giusto lo abbiamo di questo colore l'abbiamo nel blu blu indaco e dalla 40 alla 54 forse manca qualche taglia in mezzo nel bianco banca la 44 e nel blu la 54 vedete come ci siamo preparate insomma ragazze ci siamo per ricordarmelo io ci siamo pure preparate ci siamo pure preparate quindi a questo punto andiamo avanti andiamo avanti qui adesso sto un attimo così così mi vedete se avete qualcosa da chiedere va bene a noi sono arrivati i leggings i leggings bianchi dalla 40 alla 54 così e neri bene allora vi facciamo vedere cosa il completo che possiamo adattare non più nelle taglie piccole perché questi pantaloni sono finiti nelle taglie piccole abbiamo una 5 abbiamo taglie dalla 46 in su il nostro sbragato lo possiamo abbinare con la nostra camicia bellissima col nodo ok 59 euro 79 euro la camicia e 89 euro la nostra giacca in bengalina cos'è la bengalina quel tessuto super 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 elasticizzato meraviglioso che ormai tutte conoscete una bengalina invernale questa l'abbiamo melanzana l'abbiamo verde lo abbiamo nero e mi fermo qui sì sì i colori sono quelli quattro colori c'era grigio ma non mi ricordo se c'è ancora qualcosa di me c'era anche grigio ma non mi ricordo se c'è ancora qualcosa no grigio il giorno grigio il pantalone sì sì pantalone pantalone ecco dobbiamo chiarirlo usate in questo caso andiamo a fare questi ragazzi questo è il nostro calzone più venduto più riassortito io ho riassortito questo colore perché perché abbiamo tante maglie tante camicie tanti sotto giacca adesso io qui non li ho messi tutti ma poi magari facciamo un giretto in negozio e quanto è bello questa maglia voi credo che non l'abbiate ancora vista prezzo outred da 80 a 59 euro ml xl è fantastica quindi veste molto 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 bene veste anche un bel 52 tranquillamente la nostra giacca 7 ottavi mi dai una giacca di queste forse c'è la 40 va bene uguale che me la infilo e la faccio vedere portata qui sopra quindi 99 euro pantalone 59 euro la maglia come vi ho detto prezzo outlet 59 euro che dire poi facciamo vedere così vi faccio vedere che questa manica splendida che è questa la particolarità di questa camicia ah no ne ha un'altra di particolarità che si lava e non si stira è questa la particolarità maggiore bellissima vedete che questi adesso io l'ho fatta salire ok questi praticamente e questa è una 40 a me andrebbe bene la 42 si vede che un po piccina vabbè però può andare uguale e cos'ha di bello che essendo elasticizzata va bene tutto i colori ne abbiamo tantissimi poi magari facciamo un giro vedete che sono partita in una maniera sto saltando in un'altra ok però quando abbiamo una base unica a noi che cosa ci sono anche un sacco di calzature chiare e si possono abbinare i leggings anche magari dentro a uno stivale dimmi che a te Susanna ciao ragazze vi stiamo seguendo Paolo dice che se vuoi continuare a spogliarti lui ti guarda Paoletto 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 dove ti metto non farmi dire altro ciao comunque a tutti Cecilia chiede sempre bella la nostra Gabriella di che materiale è la maglia che indossi oggi? la maglia è una camicia è proprio una camicia in tessuto georgette manupesca quindi è oltre a non essere trasparente perché considerate che è una camicia la vedete è leggera e la potete poi appesantire con tutto quello che vi passa per la testa perché francamente da un gilet a una giacchina più corta a un qualcosa di lungo con o senza cintura perché con o senza cintura cioè potete fare quello che volete ok ragazze capotto ero qui nel 54 fermiamoci qui ma questo parte dalla 40 alla 54 lì c'è una 40 Simona mi porti una 44 visto che ho sulla giacca del cappotto laguna che è giusto lì perché voglio far vedere sopra la giacca grazie buongiorno a me buongiorno scusate ecco scusate c'è 19 euro questo cappotto meraviglioso perché ve lo faccio vedere vedi che sono partita veloce le ragazze dicono dai gabri che poi magari vediamo quando riusciamo a fare il prossimo video allora io adesso allaccio la giacca posso anche tirare sul collo vedete questa goccina bellissima ecco però vedete adesso io ho preso la 44 perché calzano un po poco ma a parte quello avendo sotto la giacca volevo farvelo vedere più appropriato altrimenti avevo la 42 in quello bianco lo vedete c'è il 19 euro le tasche si scuccero perché sartorialmente ci sono sono presenti vanno solo scucite ma scucire è un gioco da ragazze la ragazza e questo lo abbiamo cammello bianco nero e questo colore fantastico quindi ditemi voi siamo pronte per affrontare l'inverno ma nei colori che a me piacciono da morire cioè cosa devo dirvi c'è la vostra gabri parte va e poi come dice capa parte gabri che poi tanto non ti fermi più e ha ragione visto che qui oggi il tempo è un po' così sentivo un po' il tempo e mi dice no tu parti gabri che quando tu parti parti e poi chi ti ferma più sta bene luni? sì bellissimo dove possiamo andare? non lo so però andremo da qualche parte c'è la nostra Renatina ciao restiamoci anche solo per noi ciao Renatina ti aspettiamo allora che dire se non che è una meraviglia il cappotto soprattutto ragazze è 119 euro quindi è tutto un dire non so dove più ho seminato ho seminato la gruccia non è la sua padoni perché è un 42 ma lo avete visto indossato quanto è bello questa è una 44 parte dalla 40 alla 54 quindi potete mettere sotto anche il calzone a palazzo che ha una variante vedete di gradazione diversa ma buttato qui sotto con una maglia magari anche se fosse di una gradazione ancora diversa guardate non cambia nulla si può fare tutto quello che si vuole questa è una maglia è over quindi sto guardando ma non sai che non è nemmeno sto guardando sia curvi ma non è nemmeno così però è over guardate dal cartellino non si vede però lo è a tutti gli effetti con questa cascata di bottoni sulla manica ed è a dir poco deliziosa guardate la finitura fai vedere la costina che è molto molto bella la manica è così e qui invece è il filato più pettinato comunque una meraviglia una delizia prezzo outlet da 85 a 59 euro oggi siamo partite all'indietro ma va benissimo così il nostro calzone 59 euro e giusto questa mattina così le vede anche la nostra doni sono arrivate queste maglie stupende facciamola vedere bianca perché chi volesse la potrebbe mettere anche con il leggis bianco cosa allora ha al suo interno vedete questo questo questa piccola diciamo così spolverata di polvere di stelle argente appena appena per dare quel lustro il bottoncini dietro guardate la misura devo dire che comunque la vestiamo dalla mia taglia in su perché ha una vestibilità diversa rimarrà più morbida ma visto che la manica in fondo insomma guardate non a misura lo possiamo portare dalla 42 credetemi alla 52 54 avrà dei volumi diversi ma è fattibilissimo 59 euro questo è per il tessuto un po' di colori però vi faccio vedere ad esempio bellissimo questo che è una delizia vedete con i bottoncini dietro questa grigio perla e quindi cosa vogliamo dire siamo partito col bianco e grigio basterebbe metterci sopra questa che anche questa qui cateva non ha misura perché la si può portare anche a misura un attimino più morbida sta un filo più aperta però fa come copri spalle quindi la possiamo utilizzare così l'azzurro che è meraviglioso da jeans da leggings se c'è guardate vi ridico visto che abbiamo il leggis che arriva fino a taglia 54 perché tu hai mai visto un leggis bianco fino a taglia 54 in questi tessuti e sto chiedendo lei visto nella sua esperienza di vendita è impossibile ma siccome tutti gli anni lo chiedete se volete tirare giù un pochino di riuscettino tirare sulla manica si può anche fare dei miti allora due salutini Antonella ciao un caro saluto a tutte la Titti saluta tutte le cincilline ciao tesoro poi abbiamo Anna Dosi Gabri potrai rivedere la maglia lunga con lo spacco davanti e se è a completo grazie a completo di che cosa secondo me quei leggings con la gonna non è completo è vendibile così sarebbe questa così intanto la vedi anche tu l'anno scorso le avevamo molto asciutte tutte arrivavamo lì fino 44 vero 46 ma era una questione di seno mentre invece vedete anche la dimensione da dietro questa può arrivare fino a una taglia bella bella più sostenuta più alta più sostenuta poi sotto ci potete mettere il leggis un calzone un jeans o la gonna come vi ho mostrato prima quindi abbiamo vari colori scrivete su whatsapp non mi stanco di dirvelo le mantelle le ho fatte vedere ecco quello che non ho fatto vedere proprio perché sono gli ultimi ragazze aprite le orecchie da 119 59 euro c'è rimasta 46 48 e 50 e sono tre colori tre taglie nel bianco sembrava che fossero quattro io quelle che ho visto lì 46 48 50 non vorrei che ci sia anche il 52 a memoria mi confermi doni 46 48 50 li ho tolti io i biroli quindi non li puoi vedere infatti adesso me lo dirà sono quattro sono quattro sono tre una 52 vedi e allora gavrini luciola non hai messo il 52 e adesso adesso diciamogli di dietro ecco 46 48 50 e 52 perché ragazze è portato aperto con tutte le cose che vi ho fatto vedere c'è scusate se è poco scegliete voi il colore della maglia che ovviamente c'è anche nera c'è ciclamino c'è cammello ci sono vari ecco ma buttateci sopra questo metteteci sotto il leggis bianco di che cosa vogliamo parlare potete fare mille abbinamenti a seconda di quello che volete fare quindi 59 euro scontato capite che proporzionalmente non esiste ma sono gli ultimi pezzi quindi fateveli ok nero 44 48 50 e 52 l'importante è solo tenerlo lontano dei peli perché panno altrimenti ve lo spazzolate però devo dire che gira di qui gira di là è tutto bello ordinato non è nemmeno un panno che raccatta troppi peli e guardate qui tutto foderato meravigliosamente bello 44 48 50 52 nel nero anche qui lo potete doppiare con il maglione e con tutto quello che volete ok diversamente leggis abiti camice tagliari chi più ne ha più ne metta perché se io oggi volessi mettermi sotto per dire il leggis nero e mettere qualcos'altro o anche vestito così cambio la scarpa la metto nera metto uno stivaletto non litiga tutto questo triptico tutto questo colore questo ensemble di colori che sono molto ma molto ma molto belli però che dire un capo così anche qui le tasche esistono sono solo da tagliare e poi voi dovreste sentire quando sia sopra un capo come questo leggero ma caldo anche se vestite leggera sotto non è la manica che fa ma proprio vi porta a tepore e calore alla al fisico capite quindi più di così limitate puoi indossare la mantella qua scritta scozzese non so come si chiama quella trama che colore facciamo questa così non la sporco nel senso non è difficoltà è solo perché ho i capelli in disordine quindi diventeranno in disordine ulteriormente guardate è bellissima ragazzi è bella come fatta bella come 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 sta indossata bello il tepore bello tutto cioè non è stretta di collo è meravigliosa il tessuto è stupendo cosa devo dirvi il prezzo pure cioè voi fate così e siete già a posto siete già ordinate e siete già pronte per abbinarla sopra a qualsiasi cosa sopra per dire a un trench come quello che indossavo prima che adesso ri indosso togliamo la giacca tra l'anno vista che l'abbiamo di tutti i colori nera blu ciclamino mi permetto sì grazie abbiamo qui vedi che bello avere chi ci assiste durante il video bene benissimo e poi facciamo un girettino magari vi faccio vedere qualcosa che mi viene in mente dicevo questo va dalla 40 alla 54 129 euro vediamo se riesco a far scendere il cartellino ok lo potete abbinare con tutto quindi sotto una mantella io ero partita con questo che delizioso vedi lo rimettiamo dopo e quindi anche questo fa un servizio a se potete buttarsi sopra anche questo per appesantire il tutto ultimi trench 46 48 50 69 euro ricordiamo che vestono meno quindi vestiamo una 44 una 46 una 48 con queste taglie bisogna dirla tutta perché noi siamo precise quindi vestono esattamente una taglia in meno ok ma scontato da 129 a 69 euro siamo solo noi in questo 139 a 69 proprio perché vogliamo farvi star bene e perché sono rimasti questi pezzi poi anche questo lo andate a pesantire con tutti i peli con tutte le mantelle che dirà di metterci sopra vedete in questo caso l'ho appena provata vedete ce la buttate sopra e avete anche qui una maniera in più di abbinare un capo questo è meraviglioso ragazzi abbiamo nero laguna verde e questo colore questo viola bellissimo che poi lo possiamo andare a mettere qui il nostro tailleur quest'anno il calzone guardate è stato fatto a coda di rondine meraviglioso con i bottoncini l'elasticino dietro per favorire la vescribilità la cerniera davanti per chi ama le zip aperte del calzone davanti 69 euro ormai sono anni che vendiamo il calzone a 69 euro e 129 euro la giacca ok cos'è da guardare capo indossato li ho appena detti i prezzi angela vi puoi ridire gentilmente 69 euro la camicia 59 euro il leggins e 129 euro il trench il trench lo abbiamo nero il colore che vedi che è stupendo e come ti ho fatto vedere lo abbini con tutto e verde quindi sono colori proprio in auge in questo momento gonne donne sono arrivate queste gonne che sono bellissime scusate perché credo di averne prezzata una perché sono arrivata e sì 49 euro ve la faccio vedere praticamente è vedete che come mi chiedevi tucate arriviamo anche nelle taglie alte quindi questa cosa so che ti piace molto ok è un altro tool è un altro prezzo ma francamente è un altro stile ma siccome tante di voi le gradiscono io l'ho presa abbiamo anche questo abito nel in questo in questo viola qui quindi si può mettere sotto hai capito e far uscire anche questa carinissima se la volete abbinare sotto alla giacca fatelo se volete abbinarla qui sotto fatelo dalla 42 andando avanti tranquillamente perché non c'è nessunissimo problema dove ho messo la gruccia chi lo sa io sono in grado di far sparire le grucce in diretta ricordiamo il prezzo sì 49 euro questa gonna ed è stupenda poi l'abbiamo alla 30 euro in tinta unita o 39 39 però questa in questo in questo tessuto in questo filato costa 49 possiamo anche metterla con la nostra bellissima maglia con l'incrocio vedete a 59 euro dalla 40 alla 54 abbiamo bianca abbiamo questo colore l'abbiamo verde acido l'abbiamo nera chiedete su whatsapp e vi facciamo tutti gli abbinamenti del caso come faccio io non farvi vedere o a lasciare dal fornitore questa questo altro colore parliamo praticamente di maculato ma maculato nelle varianti e c'è anche un maculato col verde quindi chiedete su whatsapp se siete interessate questa è una meraviglia vedete stesso modello quindi si allarga e qui che cosa vogliamo dire l'abbiniamo i bianchi l'abbiniamo i neri l'abbiniamo il cammello l'abbiniamo ai colori fate quello che volete ragazze anche con queste maglie che abbiamo e a 30 euro e nella misura slim ma sapete che sono confortevolissime sono di un caldo io credo che questa stagione me le faccio di tutti i colori perché ce l'ho bianca e nera l'ho lavata ripetutamente e ha un tepore incredibile e si mette sotto a tutto quindi giro collo piccola e grande diciamo slim e morbida e dolce vita slim e morbida quindi 30 euro possiamo fare l'abbinamento con questo marrone testa di moro che trovo eccezionale diversamente l'abbinate al nero o a tutti gli altri colori perché potete fare tutto quello che più vi aggrada allora mentre corina chiede se puoi fargli vedere uno sbragato ti leggo il messaggio di giuseppa allora mi fa impazzire di come fa gli abbinamenti degli abiti gabri e poi tutto poco niente oggi da farvi vedere non ho preparato nulla e tutto quello che indossi ti sta meravigliosamente bene complimenti di vero cuore un abbraccio a tutte voi grazie che carine che siete quando sono un po giù di corda devo pensare a voi allora zac che mi tiro su subito sapete capita anche la vostra gara di essere un po o affaticata demotivata mai perché per quanto concerne il mio lavoro sono sempre carica a mille e dire mille e dir poco però insomma io vi penso vi penso anche fuori dal lavoro ecco questo è il caso di dirlo come sto come sto allora se fate anche sovrapposizioni ragazze non preoccupatevi perché tutto ci sta tutto si fa e tutto potete fare ok questo è meravigliosamente bello è quello fatto un po inarcato vedete a palloncino poi c'è la modellatura più lunga che posso farvi vedere nel beige abbiamo nero l'abbiamo fosse nero non abbiamo più non so bene se abbiamo tirato fuori le scorte no vero quindi beige questo fatto a cappottone immaginate voi di mettere per dire un abito così la gonna sotto maculata che esce e poi questo cappottone sopra dai ragazze potete fare mille abbinamenti pensateci sopra diversamente chiedete che ve li fanno le ragazze dove su whatsapp 169 euro questo ed è a dir poco una meraviglia ricordiamo di far vedere lo sbragato e poi giuliana vorrebbe sapere il prezzo del leggis perché è appena arrivata certo giuliana allora 59 euro dobbiamo dire che è costruito come un nostro pantalone vero e proprio ok lo chiamiamo leggis perché l'abbiamo fatto bello inciucciato e lo abbiamo così è nero vedete questa è una taglia andiamo a vedere cosa ho preso una taglia 54 vedete che è una meraviglia perché deve stare inciucciato cioè stretto poi sopra ovviamente ci mettete le cose lunghe ok quindi bianco nero 59 euro tessuto meraviglioso confortevolissimo vita alta non avete problemi l'abbiamo l'ho fatto fare appositamente al nostro made in brescia perché perché volevo un leggis così che non ho mai avuto quante volte me lo chiedete bianco ma io lo giro lo trovo ma voglio dire qualità scadente e soprattutto taglia piccolissima ecco quindi volevo farvi vedere un attimo ancora l'abbinamento con il gilet come quello che indossavo prima io con sotto una magliettina così e con sotto questa gonna ecco possiamo fare un completo dalla 42 in su c'è anche la cinturina molto bella 20 euro perché alla fine potete fare davvero tutto quello che volete cioè questi peli questi gilet come vedete li mettiamo sopra li mettiamo sotto trovate poi voi la soluzione di come metterli 42 44 46 48 50 ma riduciamo 40 42 44 46 48 meglio dire ok del trench nero a 69 euro ok ragazze il trench nero lo portate adesso lo mettete sopra per dire come sono vestita in questo momento questa è una 42 a me è piccola posso provare a provarla mi ci voleva la 44 però ve lo faccio magari vedere ugualmente vestita come sono e così cambiamo vediamo un po se riesco ok diciamo così considerate che mi andrebbe la 44 che allora diventa vedete giusto per averlo più giusto ok quindi io di questo porto la 44 a 69 euro vestitevi tutta chiara quello che volete poi prendete un gilet se lo buttate sopra ci buttate sopra una mantella diversificate stratificate fatte quello che volete quindi moltiplicate ecco stavo dicendo solo magari non moltiplicate ma chi volesse lo faccia sto diventando anche allora ragazze ridiamoci sopra va benissimo così ma è il caso di dirlo perché dovete poter fare quello che volete e quando la carta mi fa così ho l'acidità te lo giuro vuol dire che dovete scrivere su whatsapp perché ogni cosa taglia colore e prezzo non ce la posso fare non ce la posso fare non mi faccio parlare di gabrie rimane nella pagina lì le taglie le ho dette tutte le vestibilità le ho dette tutte gli abbinamenti gli ho detti tutti amori miei lo so che impazzite dovete solo scrivere su whatsapp perché qui poi non vi legge più nessuno che questo prezzo 69 euro era l'unico che mancava e facciamo che portato aperto 46 48 se ve lo volete chiuso allora 42 44 ma perché in più quindi se il colore si riferiva a questo c'è solo bianco e quello lì stoppete no è quello lì qual è ecco vedi se ti riferivi a questo esatto era lì io te l'avevo dato in mano è giù era quel bel colore rosso minaccia eccolo qua questo è un colore meraviglioso questo è un fragola è stupendo fantastico questo colore verde e bianco allora chi va a vedere il mio magazzino la mia cabina armaggio sono piena di peli ma piena di peli qual far tu peli dappertutto perché io ogni stagione ogni anno ogni momento per me sono un accessorio importantissimo quindi vestita come sono ora vi sto facendo vedere c'è anche il leggings nero che è esattamente in questo tessuto che indosso cioè il tessuto dell'abito vedete è molto sostenuto molto insomma abbiamo fatti fare apposta nostro mini brescia 40 54 dalla 40 alla taglia 50 dalla 40 al 54 idem per l'abito dalla 40 alla 54 bianco nero che è il tessuto dei leggins e poi c'è quel verde meraviglioso che è questo che io quando guardo il video doni con questo abito è un'esplosione cioè posso essere bella come dicono le nostre amiche ma quando vedo questo video è un'esplosione di bellezza andate a vederlo indietro su gabrie s e poi mi dite se non ho ragione perché è stupendo due messaggini nella media grigia con il metallo bruna chiede il gilet bianco che indossa gabrie che taglia è l'ho appena detto 42 44 46 poi manuela chiede ultima richiesta giuro potrebbe gabrie indossare anche la mantella più lunga color cammello che ha fatto vedere con la gruccia si intende questa si intende questa perché di più lunga io non ho altro rispondi pure se sei in diretta e avevo fatto vedere anche questa probabilmente questa che vuole quale di queste cannello beige o quella in fantasia scrivi pura che te le faccio vedere sicuramente indossate dicevo si da una m non c'è più e vabbè quindi abbiamo ms mxl è questa è grande però vabbè ragazze non infilo lo stesso ok per farvi vedere questa giacca vestita così non è detto che dobbiamo andare a fare chissà quali festeggiamenti basta un jeans ma sarà un abito basta qualsiasi cosa queste giacche luminose si usano proprio in abbinamento come dire un po' particolare no perché il monton e la classe dice che anche una giacca tutta in paillette di giorno è una meraviglia vogliamo metterla così mettiamola così io il grigio bianco mi fa impazzire però possiamo fare anche grigio su grigio dicevo doni che questi qui li hai presi anche tu essendoti magari un pochino più morbido metti la spilla in vita esatto lo chiudi e l'ho detto prima manuel ha risposto che quella la tua destra cappotto mantella con pilo e lacci in vita sì ma che colore cammello se non ricordo male lunga il cappotto non nella mantella è un cappotto a tutti a tutti gli effetti tesoro è questo sì non c'è simo non è quella che ho fatto vedere prima questa chiama la mantella è un cappotto a tutti gli effetti cioè quella che ho fatto vedere prima si quella più lunga esatto quella uvetto questa più lunga più lunga che è un cappotto vero e proprio siamo proprio vero e proprio al collo che si stacca in questa maglia che è elasticizzata vedete voi potete raccogliere abbiamo venuto fino alla taglia 52 è magica è magica perché la posso portare anch'io questo è un cappotto a tutti gli effetti non si può definire mantella 169 euro come l'altra vedi ma è deliziosa vedete anche il beige bianco quanto sta bene cioè è bellissima potete fare davvero tutto quello che vi aggrada io ho detto facciamo un giro del negozio esatto hai visto ti ho detto che i peli andavano fermata qua con tutti questi qual 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 poi ti agevola anche la bronzatura essendo sassi io non sai da che parte inizio dove finisco è vero guarda così scura ma comincio a scolorirmi anch'io non è che ragazze prima l'avete vista bianca possiamo vedere la lilla cioè è una delizia 59 euro questa sento che i capelli pian piano sia che dire ragazze possiamo fare davvero tanta 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 roba tanta roba basta mettersi di scegliere come dicevo ieri con la con la susi che abbiamo detto cos'è che facevi quando magari evi un po giù o eri aio la mia vita la mia vita era quella di andare ad aprire l'armadio e dire bene aspetta un attimo che adesso do una girata a quella che è la mia giornata cosa metto di bello e allora in base a come ci si sente si tira fuori qualcosa di giusto guardate questa ragazze 99 euro è una meraviglia tutta in pelle in pelle invecchiata guardate che bellissimo colore sta molto bene anche portata così la vedete abbastanza gonfia perché è piena di cellophane ma qualora la svuotiamo praticamente diventa solo che morbida e tutta da riempire ma leggera quindi anche se la riempite leggera è perché oggi ho fatto vedere la giacca perché volevo portarvi qui ragazze con questa gonna 39 euro che è una meraviglia vogliamo metterla grigia sotto questa giacca vogliamo metterla grigia sotto una dolce vita grigia e con questa mantella facciamo quello che più ci aggrada io vi ho preso il grigio chiaro ma c'è anche il grigio scuro magari adesso andiamo a fare un giro e ve lo faccio vedere ok ma noi la voglio che ti ringrazio in diretta per la prestazione grazie tesoro scusami se non capivo ma mi ha sviato il discorso mantella quindi capendo poi che era il cappotto ovviamente ragazze avevo fatto vedere adesso io l'avevo preparato qui per farvi vedere giacca 39 euro ma c'è solo small l e xl scusate se a poco la xl restiamo una dunque io ho preso una media però non c'è seno quindi un 46 in 48 asciutto ok con poco seno ecco ragazze quindi è qui da vedere l'abbinamento ok bene perfetto ora posso togliere la giacca magari mi rinfilo invece del trench anche solo il peletto il trench cos'è che volete vedere o entrambe non lo so può andare bene anche così l'idea anche per farvi vedere portato da solo in questa maniera cintura con le perle elasticizzata 20 euro andiamo un attimo di là si anche per i maglioncini facciamo vedere i colori se c'è qualcosa che le nostre amiche allora ragazze considerate che abbiamo queste borsa in che sono bellissime sono stupende sono ecologiche stanno partendo i vostri tacchi ragazze se avete sentito parlare nel corriere un saccone pieno 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 e sta partendo ok e quindi questa domani perché credo che adesso lo sciopero sia rientrato il tutto vi avremmo avvisato quindi questa in questo colore è meravigliosamente bella in questo a 49 euro guardate la meraviglia guardate quanto è bella questa borsa un po di cose particolari ma quando una cosa particolare così la si prende a 49 euro ragazze potete permettervi di tutto e di più è stupenda anche questa rigida perché l'abbiamo un po riempita ma vi garantisco che poi nel diciamo così nell'uso è molto 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 pratica vi facciamo vedere anche il pantaleggings questo abbiamo già preso questa è un'altra cosa questo è un leggero e proprio questo è pantaleggings in crepe nero davanti e diciamo tessuto guardate in due fantasie diverse davanti per pool nero su nero lucido opaco a 59 euro che è una delizia vogliamo prenderlo e metterci la maglia con l'incrocio nera facciamolo questa maglia è lo stesso tessuto dei completi coccolosi tre pezzi che torniamo a vedere la ok ragazze ancora qualcosa di poco è un completo rosa antico molto bello che anche qui vedete ci mettiamo il grigio sopra mettiamo il calzone e venite con me guardate cosa possiamo fare possiamo prendere il completo cambiare la stilla mettere questa vedete se per caso non facessimo così non guardate più questa ma guardate questa e se vogliamo prendiamo anche la storia rosa antico grigia e la prendiamo e la buttiamo insieme quindi sono capi invernali qui sotto possiamo prendere una qualsiasi maglia grigia perché no adesso sono piena di peli togliamo questo allora aspettate un attimo facciamo così ci mettiamo sotto la maglia quella con il lurex e poi facciamo così sopra avete visto il completo che siamo andati a fare in un altro secondo vedo che anche cate affascina quando mi ascolta di una questa doveva prendere tutte queste idee vabbè siamo qui ragazze questa è la borsa con cui ho iniziato a 39 euro incredibile però vi devo dire che stiamo continuamente riassortendo tutte 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 queste 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 storie che sono una più bella dell'altra a dirvi una più bella dell'altra più bisognerebbe davvero toglierle tutte farvele vedere tutte perché sono stupendamente sequesta adesso vado a togliere quella roba qui facciamolo guardate via grigio in quattro i colori si diverte la doni dopo a mettere a posto il tutto rimetto lo spolvero che indossavo prima e poi vi faccio vedere per dire portato con questa stola abbiamo perso un cartellino un po' più importa è quello del quello dello spolvero mi sembra non lo so comunque dopo lo raccogliamo e per dire spettiamo questa stola sopra e che dire se non è bella anche questa vedete non è quasi neanche un dritto un rovescio quindi è l'ideale anche portata così ok allora giusto perché a me piace lo rimetto colori qui non sono tutti cate perché sono di là da sbustare quindi abbiamo tutti i colori dell'arcobaleno nelle maglie giro collo a 30 euro abbiamo più o meno qui dovrebbero essere ecco più o meno dovrebbero essere tutti questi più o meno quindi blu rosso guardate proprio che belli tutti i colori delle maglie praticamente basta una maglia così mettiamo qui sotto 30 euro l'abbiamo anche nelle taglie morbide quindi queste vestono fino a 46 giusto mi raccomando più strette e più morbide poi le abbiamo di là nella versione morbida che arrivano a 52-54 ma ovviamente devono stare da sotto giacca quindi per avere delle maglie ampie ci sono quelle che ho fatto vedere prima ampie queste li chiamano sotto giacca guardate scusate questo colore quanto è bello e lo abbiamo anche nel giro collo morbidoso non taglie piccole non l'ho trovata nelle taglie piccole quindi un bel panna un bel lilla un bel grigio un bel nero i nostri body che sono miracolosi io indosso questo color nude oggi e vedete che si intravede appena appena quanto basta ma va benissimo la nostra maglia come quella che vi ho fatto vedere prima ma la possiamo girare su tutti i pantaloni su tutte le donne su tutto quello che volete a 59 euro dimmi casa tante stavo guardando che avevo capito che la S era finita invece c'è ancora ce ne sono due amore si stamattina sì mi avevamo chiesto non lo so come mai ah ecco non le ho erano le assortimenti forse erano erano qua perché di là non ce ne sono più e le abbiamo solo noi eh quindi ah ecco poi era finita se a qualcuno ha detto che era esaurita è arrivata e quindi se ti ricordi no no era Simo stamattina aveva anche amato ecco altrimenti diversamente alla nostra vieni che facciamo vedere queste maglie poi ci soffermiamo un attimo sulle maglie eh prezzo Outlet sta venendo buio 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 qui poi ci sono già tre e mezza Cate certo ogni tanto andiamo avanti no mi sembra di dover fare vabbè riprenderemo un altro video domani o dopodomani vedremo qui abbiamo una maglia stupenda che adesso vado a farvi vedere ma è bellissima guardate prezzo Outlet vi dico il prezzo tra un attimo con un bel jeans quindi eh vi dico il prezzo dopo questo è quello a questo è quello a 129 euro perché ha la taschina vedete e il collo col pelo stesso tessuto dei cappotti che vi ho fatto vedere prima 169 quindi questo bellissimo la maglia e il jeans eccola qui la maglia è strepitosa allora maglia prezzo Outlet da 70 euro a 59 euro guardate come è fatta guardate come è finita guardate questa goccina qui che è semplicemente una meraviglia guardate il dietro una maglia 49 euro e sapete che essere un fornitore questo la maglieria la fa davvero molto molto bella ad occhi chiusi guardate anche questa con la bella scollatura V ha sempre un qualcosa di particolare come quelle che vi ho fatto vedere prima prezzo Outlet sapete che io prendo solo il prezzo Outlet da 65 euro a 49 euro facciamo vedere anche queste due che sono una delizia meravigliose poi ragazzi qui ne abbiamo ma faremo vedere nel prossimo giro perché eccola qui questo da mettere con il pantaleggis nero la vogliamo vedere qui c'è taglia piccola e taglia morbida scontata da 85 a 59 euro guardate questa maglia c'è anche della malandrina 59 euro e poi ecco questa ad esempio mantella da buttare un po' sopra a tutto la vediamo 59 euro scontata costava 90 euro dico 90 veniamo qui poi ragazzi vi do una salutata e riprenderemo al prossimo giro questo è il taglier nel colore che vi dicevo prima c'è quel viola bellissimo qui sono tutti i messaggi che arrivano alla dunia di clienti che anche a lei chiedono solo che lei è la dezza al negozio voi fate i numeri che vedete qui per le richieste che avete allora ragazze questo tagliore meraviglioso 69 euro in calzone 119 euro la giacca ha messo una 129 no se è quella nuova ah questo è punto roma no 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 non ho il punto roma no hai ragione pensavo fosse l'altro 119 euro questa e 69 euro il calzone punto roma e quindi è quel genere esatto esatto dalla 40 alla 54 con la camicia sotto col nodo e anche qui le varie stole mi raccomando ragazze quando vi mandiamo le foto delle stole sono quelle che ci state chiedendo perché ogni volta magari nel video la vedete in una maniera ma è quella che vi stiamo facendo vedere è qui che dire guardiamo qua guardate questo calzone se non è bello il nostro calzone made in brescia a 59 euro ci sono con la zidda no questo è quello con la cerniera sul lato bello a sigaretta 69 euro il qui ho un dubbio devo andare a vedere ma forse non mi ha lasciato fuori il cartellino si quindi 69 euro si ho detto giusto la maglia slim verde che è stupenda 30 euro ah ma abbiamo ancora un gilet abbiamo ancora un gilet in più che non sappiamo che taglia è ve lo dico subito ragazze guardiamolo qua 44 però ve l'avevo già detto sì c'era già bene quindi l'abbiamo doppio con questa bellissima stola meravigliosa guardate qua guardate che richiama tutto stola niente lasciato a caso da questa parte la doni che fa gli abbinamenti guardate cosa ha fatto ha fatto il vedete il torsion la dolce vita il pantalone il gel è a 59 euro scontato la k a 30 ditemi voi mi fermo solo qui un attimo su farvi vedere le maglie diciamo taglie morbide ok sono arrivati anche questi modelli che non è questo ma è questo ma sono bellissimi i colori parlo sempre da sotto giacca vedete con ok che vediamo adesso si con le polvere appena appena di lato ok così è la luce ragazzi la ripresa e vabbè non possiamo sempre sono il lame ecco comunque ci sono il lame e non il lame giro collo guardate quanti colori ci sono quelle over a 30 euro ve ne faccio vedere una a caso e poi chiedete ok eccola qui bellissima ve l'ho fatta vedere altre queste a 30 euro che devo dire mi sono anche sbagliata apprezzarla sono passata 39 ma la lasciamo a 30 e il nostro il nostro completo morbidoso che è maglia 49 pantalone a 59 e cardigan a 69 quando voi mettete questo capo vi lasciate solo coccolare ecco perché io l'ho soprannominato coccoloso perché elasticizzato è in viscose cioè lo sentite coccoloso cosa vi devo dire coccoloso già che sono cuicate mi viene solo l'idea visto che ho fatto vedere queste maglie far vedere queste camicie sono le ultime a 30 euro infatti l'oredana sta proprio chiedendo le camicie e siccome sono esattamente lo stesso colore cioè non è perché questa è una cosa che è in disuso ok sono le ultime che abbiamo in magazzino il nostro made in brescia 30 euro costavano 69 e abbiamo 48 50 e 52 ok se poi avete altre richieste fatele su whatsapp eccola qui la camicia che indosso io stupenda e meravigliosa è portata con il leggings bianco è portata con il leggings nero perché questo è un bluette che si può questa si la devo far vedere brava che si può abbinare anche sul nero 69 euro dalla 40 alla 54 esattamente come quella che indosso che ripeto adesso tolgo questa cintura qualora la portate perché è molto bella vista vediamo se riesco ok praticamente vedete che ha la sciancratura vedete che scende tolgo anche questo così almeno vedete la manica che è deliziosa poi all'elastico in fondo quindi è praticissima quello che fate di questa camicia la lavate e non la stirate è della cosa più importante ricordo il prezzo per tiziana euro e c'è anche in questo bluette chiamiamolo blu bluindaco blu che è stupenda stra 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 venduta vi rimetto un attimo il gire giusto per farvelo vedere 79 euro poi voi chiedete e noi saremo disponibili per voi vi faccio vedere ancora un abbinamento con il nostro pantaleggis quello più pesante a questo punto è arrivato anche questo nel nero potete scegliere voi questa maglia è bellissima è fatta a trapezio vediamo che ve la faccio vedere qua non ne abbiamo più tante perché anche questo è prezzo outlet scontata da 100 euro a 69 euro qui dovrei chiedere il fornitore se ne è ancora ma dubito guardate com'è fatta questa maglia vi direte ma com'è che gira la vedete eppure così eppure così quando l'avete indosso è una delizia guardatela qui è stupenda vedete poi voi la gestite tenete la vostra manica come la volete tenere dalla parte dove c'è la manica così verrà su e quindi sarà obbligata a fare questa punta è meravigliosa scontata a 69 euro da 100 euro che era e qui ve l'ho fatta vedere con il gilet come quello che indosso lo faccio vedere meglio il gilet come quello che indosso vedete la maglia vedete che qui resta praticamente eccola qua vedete quanto è della quindi 79 euro questa ve l'ho già detta 59 mi sembra sì 69 69 e 59 euro il legis non siete obbligati qui assolutamente è un decoro ma io vi dico che la maglia va portata da sola cioè fa già un gioco particolare da sola vedete non ha bisogno di cintura non ha bisogno di nulla ovviamente sul manichino è bello completare le cose quindi ragazze se avete ancora qualcosa da chiedere fatelo diversamente ci vediamo al prossimo giro allora c'è il saluto di roberta che ti dice che non ha ancora trovato un colore che ti stia male la nostra robie teatro per farti capire poi c'è alessandra che dice ciao bellissime sono arrivata ora e credo vedo poi il video indifferita stasera perché mi sono persa all'inizio stupenda la giacca grigia luminosa ho capito che tu gabri indossabile taglia l come ti qui indossava esatto come ti misura ti stava molto morbida io solitamente porto una taglia 42 44 ti ringrazio spero di riuscire a passare il negozio ah ecco allora è maglia conosci tu? è della simu la nostra alessandra allora la S no? tu passa il negozio gioia e te la facciamo provare allora io direi che quelle giacche lì come hai visto io l'ho indossata se hai un 44 va bene anche l'elle esatto anche perché se decidi di mettere con un maglioncino sotto ci sta ci sta e è fatta talmente bene che qualora metti qualcosa di leggero le spalle sono comunque proporzionate asciutte però vola eh perché guarda che non ce ne sono più eh e è difficile che io riesca a ritrovarle quindi ti aspettiamo il negozio velocemente qui ragazzi abbiamo anche le borse che possiamo fare pandan con praticamente quello che stiamo proponendo e un colore e l'altro ed è bellissimo vedo che le loro catene le avete vendute tutte a parte ah beh e dirmelo che le riassortiscono eh ah ragazze 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 bene quindi me lo dirai che ne prendo un po' eh che così andiamo ad addobbare tutte le nostre belle borse perché per 10 euro sono dei bellissimi accessori sì sono sono d'accordo con voi dimmiate poi c'è Bruna che credo si riferisca ai maglioncini si sono fatti in Italia allora a questo prezzo no sono di importazione un maglioncino dolce vita fatto in Italia intanto l'inquadro così vediamo se tutte le aziende di maglieria italiane che io conosca hanno sede in importazione quindi una maglia così la vendo a 79 euro in questo caso 30 euro ma è lo stesso tessuto giratela come volete giratela di qui giratela di là sapete che io sono sincera poi per l'amor del cielo ci sono eh voglio dire dipende che cosa si intende per maglieria made in Italy io sto parlando di questi sotto giacca che mediamente un made in Italy eh viene a costare quella cifra lì mh ci sono dei laboratori anche nella bassa bresciana che fanno maglieria ma si elevano molto molto di prezzo non a 30 euro ecco questo è quello che volevo dire certe aziende che io conosco hanno invece non in loco ma eh diciamo eh importano anche loro mettendo poi la loro il loro logo e via dicendo ok ragazze bene eh quindi c'è di tutto e per tutti i gusti e per tutti i prezzi perché è giusto che uno scelga eh in base a alle proprie esigenze ecco quando è leggete bene l'etichetta perché ci deve essere su ogni capo mi conseguenza fate poi le vostre scelte in base alle possibilità in base ai prezzi in base a tutto quanto in base alle qualità eh il mondo è bello perché è vario proprio per quello capite ragazze ecco quindi posso chiudere si è arrivato un ciao splendor da Anna bene ciao Anna ciao Anna ciao splendori tutti perché siete tutte splendori vi voglio un mondo di bene ragazze quindi ci vediamo prossimamente su questo schermo baci grandi ciao